Rientro dai capitali, ti garantisco nove benefici per evitare una perquisizione a casa. I clienti che vengono da me qui a Zurigo vogliono valutare la loro situazione in un ambiente sicuro, in un ambiente protetto e professionale, senza dover rischiare intercettazioni ambientali, senza rischiare di essere segnalati in Italia e senza rischiare una perquisizione a casa da parte della Guardia di Finanza. I miei clienti vogliono conoscere il meccanismo sulla volontaria disclosure, cercano di valutare con calma e in santa pace cosa fare. Prima di decidere definitivamente se aderire o se non aderire alla volontaria disclosure. Cosa che in Italia è rischiosa perché un commercialista non incaricato col mandato dovrebbe, secondo la legge italiana, fare una segnalazione per sospettata evasione. In Svizzera invece non è così. Sei protetto dal segreto professionale più assoluto. Sappiamo dunque esattamente in quale situazione delicata che ti trovi tu oggi, anche se non è colpa tua. La situazione in cui ti trovi è molto delicata. Noi ne siamo coscienti. Buongiorno, sono Enzo Caputo, avvocato con studio a Zurigo con SwissBankingLawyers.com. Ora ti garantisco personalmente nove benefici per evitare una perquisizione a casa. Ho lavorato più di dieci anni come avvocato nel Dipartimento Legale delle Banche Svizzere. Ho lavorato cinque anni nella Banca Commerciale Italiana e anche tre anni nel Dipartimento Legale dell'UBS. Poi ero anche dirigente dell'Associazione dei Gestori Indipendenti di Patrimonio. Dunque conosco molto bene il mondo e l'industria del Private Banking e del Offshore Banking, ma conosco soprattutto molto bene le esigenze della clientela internazionale. Io ho sempre curato esclusivamente clientela internazionale da tutto il mondo. Parlo e scrivo cinque lingue e conosco bene le diverse documentazioni bancarie di più di 300 banche svizzere. Ti garantisco la mia domestichezza con i documenti bancari e il ricupero della documentazione completa. Grazie alla mia esperienza me ne accorgo se la banca fornisce documentazione frammentaria, se mancano documenti, se non sono tutti documenti. Approfitterai delle mie esperienze fatte con l'Offshore Voluntary Disclosure Program americano, quando ho aiutato i miei clienti americani che avevano conti segreti in Svizzera. Ti metterò a disposizione tu e le mie esperienze che ho fatto con questi clienti. Ti garantisco di aver composto un pool di commercialisti italiani su misura per te, che lavorano a fianco a me, unicamente sul territorio svizzero, con documenti anonimizzati. Neanche loro sanno i tuoi dati personali. Fino alla fine ti garantisco che la Voluntary Disclosure sarà scritta dalla A alla Z completamente sul territorio svizzero, dal mio pool di commercialisti scelti su misura per te. Nessun documento, neanche un documento dovrà marcare il confine con l'Italia. Noi non vogliamo che i documenti bancari passino alla frontiera. Ti garantisco massima protezione e massima riservatezza con i tuoi dati. Ti garantisco un lavoro personalizzato e ottimizzato. Calcoleremo sia col calcolo forfettario e sia col calcolo analitico per farti risparmiare sull'impatto fiscale. Se decidi di rimpatriare i fondi in Italia abbiamo la convenienza di introdurti presso una banca italiana con ottimo rating di sicurezza. questa banca italiana è disposta a rimborsarti tutti o gran parte dei costi che hai subito per la Voluntary Disclosure. Il mio onorario lo paghi col conto svizzero che sblocco subito per te. Di questo? Questa è una delle prime cose che me ne occupo io. Ti garantisco l'introduzione da uno dei migliori avvocati penalisti in Italia per reati tributari qualora ne hai bisogno. Speriamo di no, ma può succedere. Anche in questo caso siamo pronti. Una volta aderito alla Voluntary Disclosure ti garantisco una second opinion, una seconda opinione. Ti garantisco una revisione dell'operato di gestione patrimoniale della banca svizzera o del tuo gestore indipendente. Farai un'analisi. Qualora avesse speculato e perso il tuo capitale, lo andiamo a recuperare per te. Se sono stati incassati retrocessioni esagerate, recupereremo anche quelle. Una volta che il tuo capitale è regolarizzato, puoi fare valere tutti i tuoi diritti e recuperare legalmente quello che è tuo. Non ti devi più nascondere, non devi più evitare fare processi perché ormai sei regolarizzato. Se anche tu, come tutti i miei clienti, vuoi approfittare dei miei 9 benefici garantiti per evitare una perquisizione a casa, usa adesso un telefono neutrale, magari un telefono in un hotel, in un albergo e fissa oggi stesso un appuntamento con me qui a Zurigo. Digita lo 0041442124404 e fai un salto a Zurigo. Ti garantisco, ti sentirai molto meglio dopo. Ve lo garantisco io. Se ti è piaciuto questo video, clicca su subscribe e riceverai altri video sull'argomento volontario e disclosure. Se hai un amico nella tua stessa situazione, gira di questo video e fagli un favore. Grazie per la visione, ci vediamo presto a Zurigo. Grazie per la visione.